Ciao, benvenuti al Centro Teatro, sono Paola Pederniana, la responsabile del Centro. Il Centro Teatro è uno spazio e come tale è messo a disposizione di tutte le persone che cercano spazi per realizzare le loro attività in campo artistico. Qui poi organizziamo anche dei corsi e degli eventi, sempre in ambito artistico, diciamo a 360 gradi. La persona che stiamo cercando entrerà nello staff del Centro Teatro e quindi starà fisicamente qui, in questo spazio. Si occuperà di front office, perché al Centro Teatro passano tante persone per i corsi, per le attività, ma si occuperà anche di back office, in quanto dovrà rispondere alle mail, gestire una parte di segreteria organizzativa, ma anche curare l'organizzazione di alcuni eventi e in particolare si occuperà di comunicazione. Cerchiamo una persona curiosa, che abbia voglia di mettere in gioco anche i propri interessi, possibilmente in campo artistico, ma non solo. Una persona che sia appassionata anche di comunicazione, di organizzazione e eventi, che sia paziente, flessibile, che ami la relazione con le persone, ma che sappia anche gestirsi un po' in autonomia alcuni pezzi di lavoro. Sarà supportato da tutto lo staff e quindi da 4-5 persone che collaboreranno con lei. Vi aspettiamo! Grazie! 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 Grazie!